A partire da domani, domenica 17 gennaio, la Sardegna rientra ufficialmente in zona gialla. A deciderlo la nuova ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Questa classificazione sarà valida per 14 giorni, i candidati di contagio delle regioni saranno rimessi sotto esame. Se il quadro epidemiologico peggiorasse, è possibile il passaggio in zona rossa anche dopo soli 7 giorni. Quindi, da domani e per almeno due settimane, in Sardegna non ci si potrà spostare dalla propria regione, tranne che per motivazioni di salute, lavoro, necessità, oppure per raggiungere la propria residenza, abitazione e domicilio. Definizione quest'ultima che, contrariamente a quanto il governo aveva deciso in un primo momento, permette dunque ai sardi di potersi recare nella seconda casa anche quando si trova in un'altra regione. Entrano poi in atto la norma antimuvida, che vieta l'asporto dopo le 18 ai bar e in generale ai locali senza cucina, e la riapertura contingentata dei musei nei giorni feriali. Come durante il lockdown natalizio, le visite a domicilio permesse saranno limitate a massimo due persone, oltre ai minori di 14 anni conviventi. E per ciò che riguarda la scuola, il governo ha anche previsto che gli alunni delle superiori delle regioni gialle e arancioni tornino a scuola lunedì 18 gennaio, almeno al 50% della presenza, fatte salve le ordinanze regionali. A questo proposito, la Sardegna ha già previsto rientro in classe da lunedì 1 febbraio, ma il coordinamento Presidenti Consiglio di Circolo e d'Istituto Sardegna fa sentire la sua voce, ricordando che provvedimenti analoghi a quello della Regione sono già stati sospesi dagli organi giudiziari. Chiediamo a gran voce di ritirare il provvedimento in vigore e permettere il rientro in sicurezza delle studentesse e degli studenti nei propri istituti. Non vorremmo che, anche in questo caso, a decidere debba essere il giudice amministrativo.